Altri 77 nuovi contagi in provincia di Agrigento e sale adesso a 696 il numero degli attuali positivi. Un'escalation preoccupante se si tiene conto del fatto che venerdì scorso erano 353 la metà. Non a caso sono in vigore due zone rosse e a Caltabellotta il numero dei positivi continua ad aumentare. Secondo il report diffuso questa mattina dall'ASP sono adesso 53 i contagiati. Altri 9 casi sono emersi nelle ultime 24 ore. Analoga situazione a Favara, altro comune rosso dove con 12 nuovi casi il numero degli attuali positivi è salito a 142. In quasi tutti i comuni della provincia si registra un incremento. A Sciacca ci sono due nuovi positivi e dunque sono 24 gli attuali contagiati. Un nuovo caso si registra rispettivamente a Ribera e Sambuca di Sicilia che passano a 4 attuali contagiati. A Sambuca peraltro si registra anche un decesso. Si tratta di un anziano di 80 anni che era ricoverato all'ospedale di Marsale ed era affetto da altre patologie. Era positivo al Covid-19 ed è deceduto nelle scorse ore. E la 22esima vittima nel comune di Sambuca di Sicilia dall'inizio della pandemia a darne notizia è stato il sindaco Leo Ciaccio, informato a sua volta dall'ASP di Agrigento. Tornando ai numeri del contagio nei comuni, questa è la situazione in quelli che hanno registrato un incremento nelle ultime 24 ore. Ad Alessandria e della Rocca gli attuali positivi sono adesso 5, ad Aragona 6, a Cammerata 30 10 nuovi casi emersi rispetto a ieri, a Campobello di Licata 11 positivi, a Canicati 8, a Iopolo Giancaxio 4, a Licata 20, a Naro 24, a Palma di Montechiaro arrivano a 99, 7 nuovi casi, a Porta Empedocle sono 67, a Rialmonte 7, a San Giovanni Gemini 29, a Santo Stefano Quisquina 9. Migliora la situazione ad Agrigento dove gli attuali positivi scendono a 50. Invariata la situazione negli altri comuni, sempre tre i contagiati a Menfi e uno rispettivamente a Lucca, Sicuela, Cianciana e Burgio. Sono stati 24 i soggetti guariti nelle ultime 24 ore in tutta la provincia, mentre due i nuovi ricoveri. Al Covid Hospital di Ribera rimangono 12 posti letto occupati tra degenza ordinaria e subintensiva e tre in terapia intensiva. Passano da tre a quattro i posti occupati al Covid Hotel di Sciacca.